Il modulo di comunicazione all'interno del master si occupa principalmente di analizzare e sviluppare le tematiche riguardanti le nuove modalità crossmediali all'interno dei piani di comunicazione integrata aziendali, con un occhio di particolare riguardo a quelle che sono le peculiarità di sviluppo del territorio e la creazione di un nuovo prodotto turistico. Sicuramente questi aspetti possono essere anche individuati e analizzati con una visione legata a nuovi progetti di impresa che sono sia progetti di impresa del settore turistico ma anche progetti di impresa a supporto dello sviluppo del settore turistico attraverso le nuove tecniche multimediali di cui ogni business plan per la nuova impresa sicuramente necessità e bisogno.